chi è? buongiorno sono della parrocchia buongiorno mi risulta che lei convive con la sua come dire la mia compagna sì bene sono stato incaricato di darvi qualche ragguaglio sul corretto comportamento da tenere durante la copula la copula? sì rapporto fisico fra due animali della stessa specie in cui uno dei due so cos'è una copula grazie allora saprà anche che certe pratiche sessuali possono essere molto pericolose in che senso? per l'anima ah no guardi noi non crediamo nell'anima e per me non è un problema posso entrare? mi sente? quanto pensava di fermarsi? tutta la vita nel senso? tutta la vita vede devo assicurarmi che seguiate i dettami impartiti dalla santa sede in fatto di spargimento di fluidi sì beh ci farebbe molto piacere poterla ospitare mi creda ma purtroppo non abbiamo una stanza per gli ospiti nessun problema starò benissimo nel lettone con voi così magari vi do anche una mano scusi posso sapere quali sono le sue competenze in campo sessuale? nessuna competenza ora posso entrare? sembra un po' meglio è già quella lì forse scusa sì lo sono infatti sto lottando allora fammi sapere che coincidenza va bene vai oh dio oh dio oh oh dio oh dio Certe volte mi risveglio in un brodo di sudor Che mi rotolo nel letto e nel cuor Al Signore non si scappa, lo si annovera con me Presto o tardi una promessa c'è per me Sei tu a piedi nudi sopra l'acqua con Gesù